Va bene, allora, un focus sull'open data licensing, cioè su quindi l'aspetto delle licenze d'uso, cioè degli strumenti giuridici con cui si mettono a disposizione i dati, però dobbiamo un attimo riflettere su che cosa intendiamo per dati, perché io so che quando parlo soprattutto con gli informatici c'è questo equivoco, questo errore, per cui dato è tutto ciò che può essere memorizzato su una memoria, quindi le foto che hai sul cellulare sono dati, i video che hai scaricato da YouTube sono dati, allora per un giurista che si occupa di proprietà intellettuale in realtà dovrebbe essere un po' impropria questa terminologia perché dato è quello che vedete in questa slide, cioè questi puntini che non sono ancora colorati di significato, le altre cose di cui parlavamo prima, cioè fotografie, video, testi, per me sono, per un giurista come me sono contenuti, sono opere creative, il dato invece è, vedete questo pezzo granulare di informazione che appunto non è ancora informazione vera e propria perché non ha ancora assunto un colore, e ve lo faccio capire meglio con quest'altra slide, cioè vedete qua noi abbiamo un numero, 1, 2, 2, 5 che potrebbe essere un numero di matricola, potrebbe essere una data di nascita, potrebbe essere la data di una battaglia, potrebbe essere una misura, una lunghezza, un'altezza, un chilometraggio, non lo so, una velocità, comincia ad avere un senso se gli do un ulteriore dato, cioè metri, quindi so che è comunque una misura, un dato che è un'altezza, una lunghezza, se gli scrivo anche di fianco altitudine allora capisco che questi sono metri sul livello del mare, cioè quindi un'unità di misura particolare che indica l'altitudine rispetto al mare, e se aggiungo anche Bormio, che è il nome di un comune della Lombardia in montagna, capisco che sto semplicemente dando questa informazione, cioè che Bormio è un comune che sta ad un'altitudine di 1225 metri sul livello del mare, però nei dataset, cioè quindi in quegli insieme di dati che vengono diffusi in rete, io i dati ce li ho così, cioè ce li ho a volte in colonne, non so se avete presente com'è un dataset in CSV, quindi semplicemente dati messi in lunghe file di virgole, divisi da virgole, che poi possono essere interpretati anche in una forma di foglio di calcolo, però un dataset è un ammasso di dati organizzati spesso secondo criteri che sono necessitati, cioè non creativi, cioè io organizzo i dati secondo l'ordine alfabetico, numerico, quindi pensate ad esempio una banca dati con tutti i comuni delle Alpi disposti secondo la loro altitudine, oppure secondo la loro popolazione, quella lì non è un'attività creativa in senso proprio, perché i dati sono ordinati secondo un criterio che è non creativo, è necessitato, cioè alfabetico, numerico, e questi sono quasi sempre, cioè gli open data quasi sempre si presentano così, c'è un diritto su questi dati, anche se non c'è creatività vera, quindi non c'è un vero diritto d'autore, c'è un diritto che viene chiamato diritto sui generis, che vabbè tutela le banche dati di quel tipo, ma quindi vuol dire che l'ente che ha raccolto il dato ha comunque un copyright, possiamo chiamarlo, un diritto di utilizzo, che non è tanto sull'informazione in sé, sul dato su crudo, perché che il comune di Bormio stia a 1225 metri sul livello del mare è un'informazione che non appartiene a nessuno, è di chiunque, comincia a diventare qualcosa di tutelato se appunto io faccio un ammasso di dati, organizzo questi dati in una grande banca dati, possiamo chiamarla, e li organizzo secondo dei criteri, e quando appunto io li voglio rendere open, cioè quando sono in un'ottica quindi di condivisione di questi dati che io ho raccolti e di cui detengo i diritti, allora ecco che si pone la questione di cosa si intende davvero per open data, e qui noi abbiamo una definizione che può essere o quella diciamo più della comunità scientifica che è questa, un dato è, questa viene dall'open knowledge foundation, cioè un dato è aperto se è liberamente usabile, riutilizzabile, ridistribuibile da chiunque per qualsiasi scopo, soggetto al massimo alla richiesta di attribuzione o di condivisione con la stessa licenza, e poi abbiamo una definizione che invece è quella del CAD che vi ho citato prima, all'articolo 1 del CAD si dice che sono dati di tipo aperto, i dati che sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permette l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciale, in formato disaggregato, quindi la questione è estremamente legata al copyright. Poi l'altra caratteristica che sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione IVI, comprese le reti telematiche, e sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per il laboratore, e che sono provisti dei loro relativi metadati, quindi devono essere gli open data, si usa dire machine readable, cioè leggibili dalla macchina, quindi l'esempio che facevo prima, il PDF scansionato a bassa assoluzione non è sufficientemente open data, non rispetta questo requisito, e poi devono essere disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione, o IVI comprese le reti telematiche, oppure sono resi pubblici, vedete, a costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo quanto previsto dall'articolo, vabbè, fa riferimento all'altra norma, quindi, o gratuitamente, oppure comunque disponibili a costi marginali, quindi questo è un aspetto che invece è di carattere economico. Ah, ecco, scusate, non ho messo in evidenza l'aspetto del punto 2 dei formati aperti, quindi non basta che siano machine readable, ma devono essere machine readable anche in un formato che è considerato formato aperto, secondo un'altra definizione a cui vi rimando, sempre nel codice di amministrazione digitale. E quindi, come licenza abbiamo queste, cioè queste sono le, diciamo, le tre opzioni, e vedete che sono divise in questa immagine ad albero, per cui prima c'è una distinzione tra licenze vere e proprie e dichiarazione di rilascio in pubblico dominio, perché un conto è mettere fuori con una licenza, altro conto è dichiarare che non vuoi esercitare il diritto d'autore, quindi lo rilasci direttamente in pubblico dominio, e io questa soluzione la caldeggio per tutti quei dati che sono considerati a pubblicazione obbligatoria. Cioè, visto che io sono comunque, come pubblica amministrazione, sono comunque obbligata a mettere fuori il dato, perché c'è la legge che me lo dice, e quindi non è una mia scelta, tutti quei dati andrebbero pubblicati con un cc0, così abbiamo tolto il problema del copyright a priori, cioè non c'è nessun tipo di diritto, è pubblico dominio fin dall'inizio. In tutti gli altri casi invece abbiamo la scelta di applicare una licenza open, che può essere o una licenza di mera attribuzione, cioè chiedo solamente che venga riconosciuta la paternità originaria, la fonte originaria del dato, oppure che venga anche richiesto la cosiddetta share alike, l'applicazione della stessa licenza sulle opere derivate, cioè chi fa un'opera derivata col mio dataset, chi fa quindi un dataset derivato, deve rilasciare con la stessa licenza anche il dataset derivato, questo è un po' il senso. Quindi la risposta a come si licenziano gli open data è questa. Se volete vederla in ottica di modello Creative Commons, cioè Creative Commons ha stabilito un modello basato su sette soluzioni, sei licenze più una settima che è il cc0, quelle coerenti con la definizione di open data che abbiamo visto prima di fatto sono queste qua, perché non si può aggiungere una clausola no derivatives perché le opere derivate devono essere consentite, cioè l'utilizzo dei dati degli open data deve essere in ottica di riutilizzo e di modifica di questi dataset e anche non posso condizionarlo al non commercial, cioè non posso dire che l'utilizzo è consentito solo se a scopo non commerciale. Quindi questi sono gli strumenti e in più il legislatore ha detto un'ultima cosa che poi vi lascio, che qualora la pubblica amministrazione si dimentichi o non voglia farlo oppure faccia orecchie da mercante e non applichi correttamente le licenze, quindi non metta fuori un dato indicando la licenza, il cittadino può trattare questo dato comunque come se fosse open. Perché? Perché lo dice l'articolo 52 CAD al comma 2, il cosiddetto open by default, cioè i dati e i documenti che le pubbliche amministrazioni pubblicano con qualsiasi modalità senza l'espressa adozione della licenza, si intendono come se fossero rilasciati, come se fossero dati tipo aperto. Quindi se c'è una licenza meglio perché il cittadino, l'utilizzatore, vede la licenza, legge quello che si può fare e non si può fare, quindi ricadiamo in questo schema qua. Ma se la pubblica amministrazione non la mette perché non lo vuole fare, perché non ha le competenze, non vuole sbagliare, quindi preferisce non mettere fuori nulla, non specificare nulla, oppure fa orecchie da mercante, fa finta di non capire e quindi lascia incertezza, ecco, nell'incertezza, come spiego qua, il decreto che ha stabilito questo open by default a volte vuole sfruttare in positivo questa inerzia della pubblica amministrazione. Questa è stata una soluzione un po' agli romani direbbero un po' paraculesca, cioè per dire, vabbè, non ti obbligo a mettere una licenza, ma se non lo fai di fatto stai comunque rilasciando un dato come se fosse sotto licenza e quindi lo facciamo attraverso l'articolo 52 del CAD. Quindi, in conclusione, mettete sempre una licenza, la più ampia, la più libera possibile, perché tanto la direzione è quella, lo dice anche la direttiva del 2019, se proprio non la volete fare, sappiate che comunque il dato messo fuori è comunque come se fosse sotto licenza open. Questo lo chiariscono anche le famose linee guida dell'Agid che vi ho già citato prima, andate a leggere ed è molto chiaro scritto anche lì. Spero che abbiate, guarda, siamo perfettamente in orario, qua avete i miei riferimenti per rimanere in contatto con me e con i temi che io normalmente tratto, che sono proprio questi, quelli degli open data. Grazie Simone. Grazie Simone.